Buongiorno, mi presento, sono la dottoressa Dolly Lassalle e qui a mio fianco il mio allievo, nonché assistente, Jean-Paul de Bergerac. Ma perché siamo qui oggi? Perché signori, noi siamo gli unici scienziati al mondo in grado di spiegare le qualità e le proprietà dell'acqua. E lo faremo attraverso dei marchi ingegni di nostra invenzione. Ma come si può definire l'acqua se pensiamo che questa sulla Terra copre il 70,8% della superficie del pianeta? Che ogni essere umano è composto dal 65% di acqua? L'acqua che toglie la sete, che spegne il fuoco, che serve per lavare i panni? Sì, per farsi la doccia. L'acqua diventa nuvola, neve o ruggiata e in questo modo dà nutrimento alle piante e agli animali di tutto il pianeta. L'ossigeno non riesce mai ad uscire dalle due particelle di Dros. Le particelle rimangono sempre molto vicine nella molecola. In qualsiasi caso l'ossigeno si trovava sempre con il gatto. Dite cose. Quanto tempo passiamo noi sotto la doccia a pensare, a rilassarsi e intanto l'acqua scoffe? Per fare una doccia consumiamo in media 50 litri di acqua, ma per fare un bagno 100 litri. Non bisogna abusare dell'acqua, perché non è mia, non è tua, non è nostra. Noi siamo i custodi e non i padroni. L'acqua non è un brevetto, non è un marchio, non è una merce da vendere o comprare. E' come aria, ma lasciata libera. Uno, due, tre! Io ho sprecato dell'acqua. Ricordiamoci che su questo pianeta l'acqua può bastare solo se noi tutti impariamo a farla bastare.